salve come va qui di nuovo il vostro santin chan nel suo canale che state vedendo santin chan se no dove faccio merenda con un dolcetto come sempre beh come ogni volta che facciamo la spesa e lo compriamo con le perline di cioccolato che sono dei granelli di biscotto no rotondi adesso sono le 18 e 34 21 di gennaio martedì mettiamo in questo budino liquido i granelli saluti a tutte e tutti in particolare a elo viola amleta laura pezzino mimo corcione marco travaglio ecco marco travaglio come mai tu non mi rispondi o marco vabbè però adesso c'è un cellulare che vi ho comprato a mia madre devo fare un video su di lui pregi e difetti ogni tanto parte il 3g solo che c'è una camera di 3,2 megapixel però la risoluzione del video e di bugia 640 x 480 quindi significa che firma una risoluzione superiore 3,2 megapixel che buono io questo pomeriggio ho letto com'era che si diceva libro dolcetto golosso perfetto grazie a tutti 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 Tutto appunto, come dicevamo al principio, al delivio sexuale. Perché? Perché i vecini señalavano che questo era una pratica, una persona evidentemente che si confiava. Voi sapete che questa gente non siquiera ha dato il nome, è difficile identificarmi a un lavoratore sexuale, che in generale utilizza il nome falso. Lo cierto è che quando la encargada del edificio, che aiutava a Gaston con la sede della casa, che arrivò a questo departamento, che la foto stava semiabierta, si incontrò a Gaston semidesnudo, con golpes in il rostro, che stava attuando di piedi e mano, e tenia unas heridas, varias heridas, alcuni soportanti in su techo. Un malo. Un malo. Un malo estrangulato, un malo colorecamiento. Exactamente, hai golpes, una persona va a matar a una, una persona va a matar a una, la casa primero. Ese techo di aca, y los golpes, significa que evidentemente, el asesino, primero lo que hizo fue hacerle decir dónde podría tener escondido algún tipo de dinero. Esto es evidentemente lo que, a primera vista, arrojaría las peniccias. Una especie de tortura, podemos descartar, quizás no, también que se trate del dibujo sexual, porque lamentablemente también uno conoce que esto pasa en, en algunos aspectos. También, también es probable que esto haya empezado así, como vos decís, que haya empezado con un tejuto público sexual, pero la intención de la persona que lo estaba atentando, en realidad, tendrá con un seguro objetivo. Ya cuando hablamos de los cortes que tienen el pecho, literalmente, un intento de, de la persona que es el atacante, por lo que tenía algún tipo de información. Lo mismo, los golpes del público que tiene, y que se ve, y de a mi simple vista, según los cultivadores, con el pegar, en el rostro, firmando después la muerte, que sobreviene al público internacional. Bueno, todo lo que tiene que ver con lo económico, se conoce de él, que trabajaba en la parte cultural de Wokka, ¿no? Porque es un hombre que merece mucho dinero, es un sueldo de, como como, de presidente, si quiere, de la parte más cultural de Wokka, ya que, todo esto ahora, es materia de investigación, los hechos son los que conocemos, que este hombre ha muerto, de una manera violenta, como resultado de un ahorcamiento, a fixe, de una prenda de vestir, por lo menos, lo ha dato que, tu lo vende, del primer análisis, del autopsi del crimen, del autopsi del crimen, si anteriore assumando, si anteriore assumando, si anteriore al condimento, che se lo ha fatto, a pugnalamiento. Io sto lavorando, in questi giorni sto pensando, meglio per meglio dire, che cosa, che cosa poter fare, quali nuovi video poter fare, non so, vorrei leggere, dei giornali che ho, perché, io non ne ho comprati, molti di giornale, ultimamente, ne ho comprati, per un anno di seguito, nel 2001, adesso mi sono messo a rileggerli, dopo 13 anni, e vedo che le notizie, sono sempre le stesse, che potesse dire, o mirarlo a dire, dove guarda me, guarda me, guarda me, supostamente, minero, lo cierto, che, 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 se determinò, che, 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 in un filmato, che, che, quando la Università Fernanda, la encontraron, a, 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 in un filmato, in un video, che ho fatto, vi promettevo, che avrei fatto, di tutorial, di gastronomia, cassericcia, è uno, di quelli, che, vi ho promesso, come fare merenda, con un dolcetto, buono, ora, quanti di voi, mi potranno dire, se c'è, un'attualizzazione, del sistema operativo, del cellulare, che ho regalato, a mia madre, per natale, il nokia, asha 302, perché, gli scatta, il solito, robo, con pesca, gli scatta, il 3g, anche quando, non richiesto, è l'unico difetto, di questo cellulare, dell'asha 302, un cajón, un cajón, di cerveza, e un cajón, con lapios, che, che, adesso siccome il dolcetto mette sete è rimasto un po dentro così io mi servo dell'atequa così l'aprofitto fino a fondo l'aprofitto 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 l'aatrofitto l'aprofitto 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 accattare allora io vorrei che chi mi ascolta chi guarda questo video adesso non so come si fa che mi vedo dovete mandare dei dei corti filmati a me oppure caricarli nel mio canale non so però ecco potete anche registrare delle scene che io poi possa incorporare nei miei video caricando nel vostro canale come cc common creative allora io posso comporre dei video con i vostri video e vorrei che quelli che vogliono a parte comunicarne lo incorporare il loro video nei miei facessero per esempio non so guardando in camera salve oppure che dicessero prima così no accattatevi lo allora io incorporerei nella parte finale dei miei video i video che mi mandano i miei seguaci i miei atori e poi vorrei che ecco perché io vorrei segnalare dei canali speciali non tutti quelli che si sono iscritti e mio io vorrei considerare i commentari e l'aver messo il mio canale tra i canali speciali di altri canali un momento salve eccomi qua salve eccomi qua